Il motore di reazione viene controllato da quando è grezzo fino alla fine, ma non un controllo, c'è una scheda lunga, un pezzo un po' complesso, una scheda che non finisce più, un controllo, un collaudo, una fresatura, una foratura, un collaudo e non si chiude uno sportello, un coperchio se prima non lo guardo io, poi non viene un'altra persona, non lo guarda anche lui per vedere che sia tutto chiuso, tutto frenato, tutto tarato, capisci? Un pezzo viene controllato, i raggi, i liquidi penetranti, quando dicono che è più sicuro l'aereo di una macchina è vero, perché non ci può essere errore. Era una sicurezza, una famiglia poteva dire ok, sono sicuro che per 40 anni io lavoro in Piaggio e la moglie poteva fare un altro lavoro e si potevano formare una famiglia, comprarsene a casa, capisce? E poi ha dato la possibilità anche persone come me che non avevano mai, che non hanno potuto studiare, di diventare un qualcosa, non dico che ero capo squadra, però insomma dalla quinta elementare ad arrivare a capo squadra per me è stato, ho girato il mondo grazie a Dio, mi ha fatto girare, sono stato in Sud Africa, sono stato in Inghilterra, ho girato l'Italia sempre per sostituire dei pezzi sul motore, perciò io devo essere allegrato alla Piaggio per questo. Ho compiuto gli anni il 10 febbraio del 57 e il 4 marzo sono su questo entrato praticamente. Mi ricordo che sono entrato avevo i pantaloncini corti con le scarpe da tennis, sono entrato anche io nell'hangar perché era forse il periodo che c'era più bisogno come mano d'opera e mi era affiancato una bravissima persona che io conoscevo già, che era un montatore motorista e che mi ha dato una bella dritta per il primo anno. L'antaggio della Piaggio era un po' questo, che non lo faceva a caso a spostare i ragazzi da un reparto all'altro, lo faceva per farle conoscere un po' tutto l'ambiente della Piaggio, anche se uno poteva, non c'era la necessità di produrre molto, c'era la possibilità di creare, forse anche inconsciamente, dei buoni operai e allora si girava un po' da un reparto all'altro e io devo dire grazie a questo perché abbiamo girato un po' diversi reparti e ho imparato a fare un po' tante cose. Come le dicevo prima, poi quando sono stato in grado di poter operare da solo, mi hanno dato quella famosa cassetta piena di ferri, di martelli, lime, senza manici e io dovevo capire come si faceva a mettere, infidare il manico nel martello, nella lima. All'inizio si costruivano le code dei Fiat G91 per la Fiat Avio di Torino e anche lì sono stato un anno due, so che si lavorava dalle sette e mezzogiorno, dall'uno e mezza alle sette, dalle otto a mezzanotte, abbiamo fatto 14 ore al giorno per diverso tempo. Poi ho iniziato veramente il lavoro vero e proprio, sono entrato al reparto motori dove c'erano ancora gli ultimi motori a pistoni e ho lavorato, ho cominciato a montare i motori a pistoni per il P166, che era un aereo costruito sempre in piaggio e poi è stata all'inizio la nuova era dei motori a reazione, era un reparto vicino al motori a pistoni e ho iniziato a lavorare lì. Abbiamo iniziato a montare il primo aereo motori a reazione, eravamo un gruppo di pochissimi che abbiamo iniziato a montare il primo motori a reazione costruito in piaggio. Malgrado che fosse stato il primo, a detta di tutti è stato montato meglio che gli inglesi, perché il nostro dopo le prove di testa dalla sala prova è riuscito a girare, aveva fatto, non mi ricordo bene, 350-400 ore filate, di ore filate e anche gli inglesi sono rimasti un po'… non pensavano che noi riuscissimo a… perché tutte le parti che sono dentro al motore sono specialmente dei motori a reazione, anche dei motori a pistoni sicuramente, ma al motore a reazione si parla di centesimi, di micron… … … … … … …